ciao a tutti questo video sarà molto intenso cercherò nei limiti di spazio provando a non violare quel maledetto copyright di consigliarvi i film più belli intensi che hanno per tema i campi di concentramento lascerò per ultimo scinder list che non è un film ma è un capolavoro che però la maggior parte di noi già visto più volte e non vi parlerò nemmeno più di tanto della vita e bella di benigni che ha conquistato due oscar come migliore attore protagonista e miglior film straniero è stato il film più sofferto della sua carriera ma secondo me è troppo fantasioso e si discosta troppo dalla realtà dei campi di sterminio trovo però interessantissima l'intervista rilasciata da benigni ascoltiamolo volta uno quando legge cos'è l'olocausto non credo sia più la persona del giorno prima cambia profondamente e mi ha posseduto proprio completamente che non riusciva a dormire la notte non riuscivo nemmeno eravamo partiti anche pensando a un film comico ma questa idea non mi faceva dormire anche sono nate delle polemiche sul fatto che l'inverosimiglianza che i campi di sterminio non erano così i bambini eccetera ma questo è anche lì il film non è un film un documentario sui campi di concentramento è una vera tragedia quindi non ho voluto ricreare l'ambiente vero dei campi di concentramento ma un'emozione anche mi scuso della del termine così abusato ma l'emozione il film deve dare il senso di una storia d'amore che è una vera storia d'amore di una famiglia e siccome la famiglia è il luogo d'incontro di due persone che si amano e l'amore è sempre rivoluzionario è la cosa più potente più rivoluzionare che fa più paura di tutte e il senso dell'ingiustizia tra il 2002 e il 2003 usciva nei cinema di tutto il mondo il pianista di Roman Polanski il film racconta la storia di un ebreo polacco vissuto nel ghetto di Varsavia durante l'occupazione nazista della Polonia vivremo con lui l'angoscia ci nasconderemo insieme a lui cercando aiuto e riparo e sentiremo nelle nostre dita la voglia irrefrenabile di suonare un pianoforte e tornare alla vita film vincitore di due oscar secondo me meritatissimi il primo alla regia e il secondo al migliore attore protagonista è un film molto intenso da vedere poi c'è il falsario il protagonista è un ebreo capace di falsificare qualsiasi cosa la sua vita cambia quando viene portato a Mauthausen e da lì trasferito in un cambio un po' privilegiato insieme ad altri compagni specializzati con il compito di produrre valuta pregiata falsa per sostenere le casse ormai vuote del Reich inizialmente non si pone problemi ha trovato il modo di sopravvivere però in seguito si porrà all'interrogativo continuare a falsificare denaro favorendo il nazismo o boicottare l'operazione mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi compagni bel film almeno non finisce in maniera tragica altro film che vi consiglio un film datato pasqualino sette bellezze è sicuramente il capolavoro di linea di lina vert muller nella napoli degli anni 30 pasqualino interpretato da giancarlo giannini è un giovane dei tonni fortemente partenopei fra le stradine di napoli vive conflitti delitti d'amore finché giunge all'esperienza dei campi di concentramento dove smette i panni del giovane guappo partenopeo acquistendo invece maturità e consapevolezza film da vedere perché vi resterà molto impresso lascio il link in descrizione perché c'è su youtube poi c'è senza destino faithless è uno dei miei preferiti racconta la prigionia di un ragazzino ebreo deportato nei campi di concentramento di auschwitz e di buchenwald quella che era un'infanzia felice spensierata si trasforma presto in una maturità dolorosa vissuta in un vortice di crudeltà particolare la fotografia perché progressivamente tende mano mano al bianco e nero piano piano mentre la vita si allontana il film racconta i momenti più tragici della vita di questo ragazzo costretto a crescere così velocemente nel lager per poi però alla fine almeno questo riuscire a fare finalmente ritorno a casa anche se oramai tante cose sono cambiate la vita non è più quella che lui aveva lasciato bello a me è piaciuto moltissimo però non è molto facile da trovare né su youtube né in rete ci deve stare io l'ho scaricato una volta su emule interessante invece il film la tregua diretto da francesco rosi che racconta il ritorno in patria di primo levi interpretato da john turturro ruotano intorno a lui attori che conosciamo tutti che ci rendono la visione del film più piacevole più familiare come per esempio claudio bisio massimo ghini andy luotto anche qui lascio il link in descrizione per il film completo è sicuramente molto lungo però vale la pena è bello ripercorrere praticamente il ritorno di primo levi in patria poi c'è jonah che visse nella balena a quattro anni jonah che vive ad amsterdam con i suoi genitori ebrei a causa dell'occupazione nazista è costretto con la sua famiglia a trasferirsi in un campo di smistamento tutti e tre sono destinati a passare da un campo di raccolta all'altro per essere scambiati coi prigionieri tedeschi a sette anni jonah ha già subito freddo fame paura sofferenze si è dovuto abituare presto al filo spinato alle voci minacciose dei tedeschi e anche alle angherie degli altri bambini più grandi dal campo jonah uscirà solo grazie alla sua tenacia ma ricorderà per sempre le parole che sua madre oramai purtroppo morente ha continuato a ripetergli non odiare mai nessuno lascio il link in descrizione perché su youtube ci sta il film completo poi voglio parlare di volevo solo vivere è un documentario non un film ma è un tesoro prezioso perché incorpora molte interviste fatte direttamente ai testimoni dell'olocausto che tanti di noi già conoscono nove sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti nedofiano schlomo venezia liliana segre ma tanti altri raccontano la loro prigionia vittima delle più devastanti e folle malvagità dell'intera storia dell'umanità candidato al david di donatello come miglior film documentario elargisce emozioni di rabbia indignazione di incredulità di dolore dinanzi a testimonianze che sono vere sono autentiche estrapolate dagli archivi della shoah raccolti dal lavoro certosino del regista steven spielberg vedetevelo lascio il link in descrizione perché su youtube trovate tutto c'è anche questo poi oscar e golden globe alla migliore attrice protagonista anche per la magistrale grandiosa mary street nel film la scelta di sophie dove interpreta un ebrea che si è trasferita a new york nel 1947 dopo essere sopravvissuta agli errori dei campi di concentramento il film si svolge su un doppio livello il suo presente tormentato da un rapporto sentimentale che è tossico però è profondo passionale e il suo passato che lei ripercorre attraverso alcuni flashback ricorda infatti la sua vita da reclusa all'interno dei lager in cui è stata costretta a compiere la scelta peggiore che una donna possa mai fare nella sua vita e non vi dico altro perché il film è da vedere non posso dirvi come finisce da non perdere inoltre i vecchi film come capò in bianco e nero lascio il link e fuga da sobibor in entrambe le versioni sia quella datata 1987 con ruth gerhauer sia sobibor la grande fuga del 2018 con christopher lambert entrambi sono assolutamente dei cult è molto toccante anche mi ricordo anna frank con l'incredibile scena del famoso professore deportato costretto a interrogare un arrogante presuntuoso soldato nazista che a breve dovrà dare un esame ascoltiamo siediti e fammi le domande mi vuole spiegare la frase il cielo stellato sopra di me la legge morale dentro di me significa che dio è lontano da noi è in cielo e che gli uomini sono soli perciò ognuno deve decidere per se stesso e che mi dice della coscienza la coscienza è un'invenzione di voi ebrei film famoso di cui si è parlato molto sebbene non abbia mai vinto premi eclatanti è il bambino con il pigiama a righe un dramma struggente di bruno un bambino tedesco di nove anni è il figlio di un ufficiale nazista che viene promosso comandante e trasferito con la famiglia a un campo di sterminio che tutto lascia intendere sia auschwitz bruno si annoia e comincia a perlustrare i rintorni scopre il lager ma non si rende conto di cosa sia e gli sembra talmente strano che tutti indossino un pigiama a righe aggirandosi intorno alle recinzioni conosce un ragazzino ebreo suo coetaneo smu che vive all'interno del campo dall'altra parte del filo spinato storicamente il film è inesatto poco veritero perché ad auschwitz i ragazzini minori di 16 anni venivano mandati al momento stesso dell'arrivo alle camera gas in quanto considerati troppo deboli per lavorare inutili resta comunque un bellissimo film a tratti struggente ne uscirete con il cuore piccolo piccolo vedetelo molto bello film che inserisco nell'elenco ma che a me personalmente non sono affatto piaciute di una tristezza inaudita sono il figlio di saul e la zona grigia ad auschwitz saul fa parte di sonder comando è uno degli addetti al funzionamento dei fornicrematori e un giorno scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo figlio tenterà allora l'impossibile per salvare il suo corpo dalla cremazione seppellirlo premiato al festival di can questo film ha vinto l'oscar per il miglior film straniero e il golden globe nella stessa categoria personalmente l'ho trovato lentissimo e mi ha stancato subito anche nel film la zona grigia parliamo di sonder comando un gruppo di prigionieri si accorge che una ragazzina è miracolosamente scampata alla camera gas anche se respira fatica ed è quasi moribonda si cerca in ogni modo di tenerla in vita e di aiutarla nell'ultima settimana prima dell'eliminazione il gruppo sapendo di non avere speranza di sopravvivere cercherà almeno di manomettere i forni prima di essere ucciso film molto triste e veniamo ai film stranieri primo in classifica secondo me è bent che narra dello struggente amore fra due omosessuali prigionieri nel campo di concentramento di da how ho pubblicato anche un video proprio sull'omo causto dei triangoli rosa vedetevelo uno dei due giovani deportati max cerca di negare la sua identità sperando di poter sfuggire alla detenzione ma resta comunque prigioniero nel campo si innamora di horse un suo compagno di sventura che non si vergogna della sua omosessualità e gli restituirà la dignità perduta molto intenso ma su youtube non si trova completo cercatelo altrove altro film straniero è triumph of the spirit che esiste su youtube ma in inglese invece in italiano col titolo di oltre la vittoria è introvabile lo cerco da anni salamo un campione di pugilato è destinato dal comandante del campo a sostenere violenti incontri di box con altri prigionieri per consentire agli ufficiali tedeschi di effettuare scommesse in denaro sul vincitore il perdente verrà ucciso mentre il vincitore riceverà razioni supplementari di pane salamo per sopravvivere si impegna e riesce a vincere tutti gli incontri e la sua speranza è quella di salvare con il successo i familiari dallo sterminio purtroppo non ci riuscirà terzo e ultimo film straniero è the devil's arithmetic anna un adolescente di origine ebraica si dimostra insofferente nei confronti della religione della cultura ebraica della sua famiglia questo atteggiamento è destinato a mutare radicalmente quando all'improvviso anna si trova catapultata fra gli orrori di un campo di prigionia nazista nella polonia del 1941 ma la lista è troppo lunga mancano ancora il bambino nella valigia giacob il bugiardo il servo ungherese adam resurrected vuol dire che presto pubblicherò un secondo video per completare la lista che non vuole essere assolutamente una classifica ma solo un modesto personale modo di condividere interessi a tema termino e vi saluto con il film più intenso ambientato in un campo di concentramento nazista il più profondo e toccante di tutti i tempi schindler list ciao a tutti per legge devo dirle signore che sono ebreo bene io sono tedesco ed eccoci qua vuole veramente questa gente la mia gente voglio la mia gente che crede di essere mosè dicono che la sua fabbrica è un ricovero dicono che lei è buono chi è che lo dice tutti lo dicono deve solamente dirmi quanto vale per lei quanto vale una persona per lei no 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 quanto vale una persona per lei il potere è quando abbiamo ogni giustificazione per uzzidere e non lo facciamo la lista è vita grazie a tutti